Una campagna trasferimenti all'insegna della vivacità con una società bianco-rossa pronta a muoversi a tutto campo pur di irrobustire la squadra e renderla più competitiva in un modesto campionato di Serie B fin qui disputato. A scendere in campo in prima persona a Roma il presidente Gianluca Paparesta che ha smosso le acque per confermare quelli che saranno i pilastri del Bari. Stiamo parlando di Caputo, Sabelli e Romizzi. Quanto al primo, archiviate le recenti incomprensioni con il pubblico, il vincolo è stato rinnovato a giugno del 2018. Analoga scadenza contrattuale per il centrocampista toscano Sabelli, fissata al 2019 invece la proroga per il terzino romano. Valigie quasi pronte per Schaudone e Galano che potrebbero essere ceduti a breve. In via di perfezionamento il passaggio del ganese Boateng proveniente dall'olandese Breda. La punta vestirà la maglia bianco-rossa fino a giugno del 2017. Il calciatore che ha passaporto italiano è stato uno dei maggiori protagonisti nel settore giovanile del Milan, prima di approdare nel paese dei mulini a vento. Velocità e potenza sono le doti della seconda punta, ma il mercato per il Bari non è ancora concluso. Riflettori accesi sul difensore del Livorno Emerson, il centrocampista Bellingheri e la punta Siligardi. Nei desiderata del Bari ci sono anche Caracciolo del Brescia e Pavoletti del Sassuolo. Due pezzi da 90 sui quali sono puntati gli occhi di altri club. Grazie. Grazie.